41 merci occhio a questa al fondo di questo curvone ti trovi un tornante sinistro occhio qua tornante sinistro questa qui c'è una destra questa è brutta forse è brutta qui non ve ne da nessuna particolarmente brutta però sono tutte così come? all'uscita c'è un destra ma sono aspettative scolterna e al fondo di questo ricominciano le curve tutte tortuose a partire da questo sinistra qua 90 gradi occhio che c'è un 90 gradi qui a sinistra al fondo di questo falso rettilineo c'hai un destra che è di nuovo un 90 gradi ma dovrebbe essere più largo come l'ho detto al fondo di questo falso rettilineo c'è un'inversione a destra eccola qua inversione a destra allarga e chiudila raggiunge un curvone lungo a sinistra prendi il cane lungo a sinistra che entra in un lungo a destra lungo a destra allora adesso hai un 90 gradi al fondo di questo rettilineo a destra ok occhio poi c'è un allungo che a me da tutto dritto con al fondo un tornante sinistro piega leggermente a sinistra ok tornate a sinistro dai che sei arrivato c'è il salto qui vai là vai là